eccomi qua amici radio forcella salve a tutti buon pomeriggio oggi sabato 28 maggio 2022 sono le ore 13 e 55 meno male che a napoli è uscita una bella giornata di sole e sì perché quando il caro traghetto non butta le sciette allora il tempo rimane bello pulito pulito ma quando tutto più dragaccio li butta e allora il tempo rimane sporco purtroppo questa è la situazione è benissimo buon pomeriggio ancora e benvenuti a bordo di questa radio più bella del momento che sarebbe la radio forcella quindi le altre invece tutte fuffe tranne qualcuno che poi sono anche migliori e quindi sappiamo già parlo di gold greg e di e di morisan quindi loro sono anche in gambe perciò benissimo oggi faccio questo video per parlare della situazione che sta succedendo e anche i commenti di alcuni amici miei su facebook che che purtroppo si lamentano dice queste che stanno facendo questi quest'altro eccetera eccetera questi qui ma ragazzi che vi posso dire non dire che vi lamentate anzi avevo pure proposto di fare qualcosa di di combattere oppure venire ai presidi del pippone organizzato dal 23 al 26 maggio che poi naturalmente la maggior parte di voi non si sono presentate quindi ma è inutile che vi lamentate inutilmente se social ve l'ho già detto ve l'ho già detto mille volte dovete dovete appendere social sopra un muro e scendere in strada punto perché pubblicando i link è praticamente pubblicare anche le cose che per poi farvi arrabbiare inutile fate solo il gioco del sistema però peccato che voi non lo capite naturalmente parlo anche dei finti risvegliati quindi ho presunti risvegliati che sono la maggioranza pure non quella degli italiani che stanno dall'altra parte parlo dei dei gastosati quindi che appoggiano il governo e perciò e già ve l'ho detto ve l'ho dato tante di quelle di quei suggerimenti però purtroppo visto che vuoi dei miei suggerimenti bene sbattete una cippa e continuate ancora ad ammentarvi e poi andare a credere ancora i pagliacci messi dal sistema i vari colombini franzonzolo pippa lardo compagnia bella che poi sono stati sono stati tutti spianati e quindi allontanati naturalmente da me perciò ai ragazzi chi fa parte del sistema devono devo stare esattamente alla larga appunto perciò ne ho dato le soluzioni però ve l'ho detto per lo ripeto 150 mila volte voi non le avete accettate voi continuano a postare a postare post su facebook che poi il zucchetto zacchete vi mandano per 30 giorni vi mandano per 90 poi vi mettono le restrizioni eccetera a me mi è capitato ve l'ho detto l'ultima diretta che ho fatto il 24 aprile mentre invitavo i francesi a fare quella cosa lì e che zucchetto disse che il tuo commento caro gianfranco incida la violenza e ti abbiamo restretto la tua penalità per 30 giorni è infatti avuto l'account bloccato per 30 giorni e io le mie dirette ho dovuto trasmettere sull'altro account quello di emergenza altrimenti non non potevo informare voi quindi e quindi ragazzi state facendo lo stesso gioco del sistema ve l'ho detto purtroppo però già detto ragazzi non è così che funziona bisogna appendere social sopra un chiodo e scendere per esempio mettete un chiodo sopra un muro appendete social scendete andate per strada come ho fatto io anche se sapevo che i quattro giorni del pippone sarebbero stato l'ennesimo flop poi parlerò anche di lui è una cosa che una inizia dell'ultima l'iniziativa scusate che ogni tanto vimpapina vimpapino scusate è un'iniziativa che questa volta finalmente credo che anche lui si renderà conto che che purtroppo il popolo non sta anche dalla sua parte non solo solo anche dalla mia da per tutto ragazzi quindi devo di nuovo collegare le parole che disse bon lambretto quando lui disse allo schiavo non permettere di toccargli il padrone carceriere perché lo schiavo dopo si incazza contro di te e infatti infatti a due anni a questa parte lo schiavo si è sbraitato contro di noi perciò perciò lo schiavo li fa di sta bene questa situazione e carbone credo che questa volta spero che che l'ultima carta che lo giocherà lo capirà pure lui che purtroppo gli italiani meritano il padrone despota e merita merita di essere bastonati e carotati carotati e bastonati bastonati e carotati carotati e bastonati quindi lo stesso carbone nell'intervista di martedì alla piattaforma numero 6 di morisano lo stesso carbone disse chiaramente se il popolo non vuole pretendere l'applicazione della legge ripristino della costituzione l'arresto di tutti gli infedeli di stato allora la soluzione è una sola lasciare il paese e lasciare al 90 per cento degli italiani che appoggiano questi criminali una buona dittatura perché questi si meritano ragazzi perciò ecco perché sono d'accordo con il carbone questa volta a fare l'ultima carta quella di mandare i ragazzi a distribuire i volantini intorno dappertutto anche nei centri nei paesi eccetera eccetera è un'iniziativa che lo sto dicendo da un anno ragazzi bisognava farlo da un anno e non lo so il carbone non lo so fosse stato anche per merito mio quando io spiegavo ai suoi amici ai suoi ragazzi carbonari che purtroppo ragazzi il popolo pur di non rinunciare al loro stato di comfort loro vogliono appoggiare coloro che li stanno bastonando e due anni lo hanno dimostrato il carbone ragazzi carbone non è scemo carbone queste cose le sa molto bene perciò perciò inutile che poi lui dice che il popolo è ingenuo invece sappiamo benissimamente che il 90 per cento del popolo non sono ingenui bensì sono sono servi punto e non aggiungo altro perché vorrei anche pubblicarlo anche su su facebook e anche su youtube questo video perciò perciò è benvenga l'iniziativa del carbone anzi io ho detto mercoledì mercoledì il giorno 25 quando carbone mi diede una quantità di volantini che disse poi distribuirli intorno come si dice agli isolati del centro direzionale ha detto va bene ho preso i volantini e non solo ve l'ho detto ancora non solo le ho distribuiti dentro al centro direzionale ma sono andato anche oltre al centro direzionale ho distribuito verso piazza nazionale ponte di casanova un pezzo della ferrovia porta capuana il corso garibaldi ho fatto un bel giro ragazzi ho fatto un bel giro e infatti quando piano piano sono rientrato al presidio davanti al tribunale al centro direzionale ho inserito tutti i volantini che il carbone mi aveva dato e perciò e penso che anche qualcuno a qualcuno di loro le hanno distribuito anche attorno all'isolato e invece mi sono permesso il lusso di di prolungarmi fuori da fuori dal centro direzionale e naturalmente distribuire i volantini e quindi quindi ben venga che carbone ragazzi ben venga che carbone faccia questa questa cosa che è meglio perché perché ve lo spiego perché al centro di napoli non solo napoli in tutte le città e paesi c'è molto concentramento di gente c'è tanta gente pure tipo ieri quando sono andato da radiologo a piazza carità napoli passando per dei cumani per san piaggio di libbraio c'era una ma una ma una marea di gente mamma mia di gente turisti e da lì che bisogna e da lì che bisogna ragazzi andare a distribuire i volantini dove c'è tantissima gente vabbè anche se qualcuno non si prende il volantino vabbè qualcuno altro se lo prenderà sicuramente quindi e da lì che bisogna fare bisogna fare questa azione carbone ha pensato molto bene anzi ed è bene perché da lì con molta gente e soprattutto come dicevo l'anno scorso prima che succedeva la discussione con il carbone che cosa è successo bisognava andare nei nei chioschi gassosati dove molta gente si facevano le file per farsi le prime gassose arnone per non perdere le vacanze al mare quindi peccato quest'anno i chioschi sono chiusi e se ne parano a settembre per la nuova stagione della gassosarnone quindi penso più dopo l'estate perciò anzi dopo dopo agosto all'inizio di settembre il caro il caro ministro speranza deciderà di nuovo di aprire i chioschi per la quarta gassosarnone punto perciò e comunque niente ben venga che carbone faccia questa ennesima iniziativa e devo dire che che durante distribuzione distribuzione dei volantini cercano tre due tre persone ignorantelli e credo questo e disse ragazzi leggete leggete capirete perciò chi lo capisce bene e chi non lo capisce ragazzi è solo una medusa retrograde io non ci posso fare nulla io non è che posso che posso recuperare una medusa quando una medusa una medusa rimane così a meno che non venga toccato le cose le sue cose più care il portafoglio la casa la sua zona di comfort e compagnia bella forse con la fame le medusa si ribaltavano ribaltaverebbero contro il loro padrone despota quindi ma fino ad allora purtroppo il popolino il 90 per cento continua ad obbedire il padrone dicendo sì padrone sì padrone sì padrone metto il fazzoletto in bocca rispetto alle regole metto la crema sulle mani il marron bass per adesso è sospeso ma tranquilli per la ripristinata a settembre per la gioia di tutti i gastosati perciò 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 godermi queste vacanze che penso che questa volta sarà l'ultimo lo sto dicendo anche dall'anno scorso però penso che il drag ogni tanto piace giocare d'astuzia quindi scusate sto soffrendo un attimo il pelo che c'era sul telefonino e l'ho tolto quindi il draghetto ha pensato bene di essere un poco furbo e soprattutto e soprattutto vabbè andiamo nel contentino andiamoci gli ultimi gli ultimi come si dice anni di vacanze a questi questi schiavi a questi italiani pure poi in autunno ci facciamo quattro risate ma io volevo tra che io volevo che tu dovevi fare il lockdown e nei mesi d'agosto perché non lo fai draghi tesoro amore 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 mio ti prego fai lockdown ad agosto ti prego voglio vedere le fuoche da balcone applaudire con la temperatura a 40 gradi fuori i balconi e plaudendo andrà tutto bene due la vendemmia ti prego tesoro in vento di qualche altro scusa ti prego tesoro no perché sarebbe bello ragazzi se tra chi farebbe il lockdown ad agosto sarebbe una figata mega galattica voglio vedere il popolino che faranno e io mi ero prodotto le vacanze a pesum le vacanze a ponzo le vacanze a commi mi devo passare le vacanze di nuovo chiuso dentro casa ad applaudire fuori al balcone come pina come timpina tuffo e filomena davanzo che facevano così facevano così ce la faremo ce la faremo e ce la faremo di questa grandissima tuffo e comunque ragazzi sono passati due anni quindi questo popolino popoletto e popolone non hanno imparato la lezione e fa pure rima è perciò per quanto riguarda anche i miei amici su facebook parliamo anche gli amici ragazzi ma che mette da fare quasi ho messo anche i link per vedere come reagivano qualcuno hanno messo anche mi piace altri invece non facevano finta di nulla perché ho visto anche i finti di svegliati che anche voi avete un cervello da un'altra parte perciò anzi anche voi un cervello un po limitato quindi come i fuffini quindi anche voi siete alla stessa cosa e ho conosciuto anche i finti guerrieri non mollo non mollo e alla fine alcuni di loro si hanno fatto la strazzeccone come il mio ex amico angela iello che mi ha tradito quell'altro che si ha fatto lo stuzzicadenti della scegli giochi preziosi e poi dicono che è e poi alla fine cadono io invece no non mi sono fatto nello stuzzicadenti vabbè in passato capitavo che portavo il fazzoletto in bocca proprio ho detto basta perché poi ultimamente ultimamente ho avuto anche un poco di affanno anche un poco di peso e quindi basta ho detto mai più il fazzoletto non sono uno schiavo e non lo sarò mai fino alla mia morte punto e quindi quindi ragazzi non lo so l'unico che che non è caduto alla tentazione sono io ma io spero che ci siano anche altri come me che hanno fatto la stessa cosa che hanno resistito invece altri purtroppo niente ma Gianfranco io il lavoro devo andare a mangiare i figli e che accenda anzi così i tuoi figli li farai patire di fame in un domani che il draghetto toglierà il lavoro perciò è solo questione di tempo è solo questione di tempo perciò perciò dico cari amici di facebook cari presunti risvegliati ma non seguite questi questi clown da circo c'è tra colombini franzon sono i guaniani vabbè sta ancora facendo quattro risate pensando a quel boccalone scemo di marco margherioni traiano che pensa ancora che zio trambetto sta di nuovo tornando traiano io ho un consiglio da da ex amico non fumarti troppo canne perché le canne fanno non male ma malissimo e ti fanno scimulire il tuo cervello quindi quindi evita di fatti le cannette marcuccio evitali tesoro evitali di fare le cannucce le cannucce usa per bevere la 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 sprite che è meglio quella è buonissima la sprite mi è venuta voglia di bere una sprite e vabbè quando prendi soldi me lo compro perciò sono rimasto senza soldi quindi è perché il draghetto deve fare riduzione dei soldi quindi e poi un'altra cosa quando me toglierà il contante il prossimo anno i microchip voglio vedere quelli accattoni che cercano avere i soldi i mendicanti fare un offerto a piacere fare un offerto a piacere e lo dico è bello tu ce l'hai il microchip qual è il microchip il microchip cutaneo perché i soldi non c'erano più l'hanno messi tutto il microchip io l'ho fatto questa prova al nipotino di soros fuori al bar a via delle puglie quando feci vedere la 175 un nuovo amico che non vi faccio nomi ma è un amico che sta dalla mia parte quindi e niente è questo cretino tutto e tutto pitturato di svopo ancora città della mamma vengono di mamma e quindi vabbè gli scemi lo sanno bene che cos'è microchip comunque non vi preoccupate che quando draghi me togliere contante i microchip anche i cretini che vengono da da giuro oltre la berusa vedranno la malabbiata e se ne torneranno nel loro paese pure loro perciò e anche i rom che vengono a cercare carità eccetera eccetera vedranno la brutta abbiateci ma per qua in italia non non accucchiamo niente perché gli italiani non c'hanno più soldi c'hanno tutti dei microchip e loro giustamente non vogliono essere controllati allora che fanno se ne vanno via appunto perciò e quindi purtroppo ragazzi il discorso è che abbiamo sempre la maggioranza che appoggiano i colpisti ecco perché l'ultima carta di carbone di francesco carbone è meglio che se la gioca così come francesco carbone l'anno scorso ha dimostrato che la magistratura sta dalla parte della massomafia e io già avevo dimostrato che il popolo stanno dalla parte della massomafia ecco perché non sono venuti davanti dai presidi e soprattutto neanche quest'anno sono venuti e quindi è buono che lui finalmente ha deciso di tagliare i suoi amici carbonari a distribuire a distribuire i volantini c'è cosa di fare anch'io del mio meglio quindi se mi danno anche la possibilità di distribuire io lo faccio lo faccio non per esempio per il carbone eccetera eccetera ma lo faccio non dire per me stesso e per dimostrare sia a lui a tutti quanti che ahimè purtroppo il popolo appoggiano i gruppisti purtroppo il 90 90 per cento degli italiani ahimè come sappiamo bene soffrono di una malattia molto grave che la sappiamo benissimo che la sindrome di stoccolma è una malattia che che la che la persona ha adora essere maltrattato dal suo padrone e questa è la sindrome di stoccolma quando per esempio gode di subire maltrattamenti pigliarmenti per le dubbiere eccetera eccetera che più ne ha più ne mette avete capito quindi purtroppo ragazzi è la verità ecco perché anzi è meglio che che si distribuiscono i volantini così se il carbone dopo aver distribuito i volantini e farà qualche altri presidi come ha detto lui da 50 a 100 presidi in tutta italia che forse metterà anche anche la calabria dove non è stata come si dice messa in lista ma anche la basilicata è la basilicata pure in bar che sarà tagliata fuori perciò un po un pochettino della puglia taranto e basta mi pare taranto bari mi pare che c'erano quindi se una volta distribuiti volantini e vedrà che che neanche questa volta il popolo viene allora allora finalmente carbone si convincerà hanno al cento per cento ma a centomila per cento che il popolo adorano i colpisti adorano quelli che gli danno il reddito cittadinanza e soprattutto adorano a obbedire i loro ordini dei massomafiosi e quindi della legalità della giustizia per i loro padroni in galera allora non interessanti loro vogliono che i padroni despoti e capo devono essere liberi per altrimenti loro ragazzi non si eccitano più essere bastonati dai loro padroni despoti e capo avete capito quindi e per quanto riguarda anche ai presunti disvegliati che stand che state sui social e pubblicate link per poi essere bannati dal zucchetto basta non pubblicate nulla scendete scendete per strada fate le azioni come ho fatto io anzi o addirittura per quattro giorni ragazzi io il terzo giorno sono stato rovinato perché perché la sera quando sono tornata a casa sono tornato con un colloquio sinistro che si è gonfiato e poi la mattina se il gonfiore si è aumentato di più e poi dopo si è gonfiato anche quello destro ecco perché purtroppo alla metà percorso che era l'ultimo giorno di presidio dovuto per forza abbandonare il presidio e l'oretta a carbone l'altro suo collega mi hanno detto vai non ti preoccupare stai tranquillo e pensa andare a visitare l'occhio perché perché sei messo proprio male perciò ecco perché non è che non mi sto facendo vedere perché è brutto ragazzi vedere un occhio gonfiato dopo ragazzi non è una cosa bella soprattutto e mi dovete capire ecco perché sto facendo dei video registrati per non vedere il mio il mio viso un pochettino con un po deformato vabbè non deformato l'occhio perciò però non vi preoccupate sto bene pure dicevo dovuto lasciare il presidio carbone non stava salendo per un'udienza e quindi naturalmente ho dovuto lasciare per forza il presidio perché mia sorella aveva fissato appuntamento con la dottoressa oculistica per vedere l'occhio che poi naturalmente la dottoressa mi disse che 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 io avevo preso troppo solo infatti così gli ho spiegato la situazione e la dottoressa ha detto hai preso troppo solo e non ci hanno avuto il cappello ho detto no e allora è quello che ha fregato perciò se avevi o gli occhiali oppure il cappello eccetera eccetera questo non ti saresti come si dice beccato questa cosa e saresti stato bene perciò e poi mi ha dato delle cure delle gocce del cortisone pure che sto prendendo e devo dire la verità sto già meglio non appena che sarò meglio tornerò di nuovo a fare le dirette i video con il mio volto naturalmente perciò e poi ieri un'altra bella notizia sono andata anche dall'ortopedico a fare la radiografia alla gamba sinistra e devo dire che tutto ok ragazzi tutto ok martedì avrò i risultati mia sorella andrà a ritirare le lastre e poi naturalmente vi farò sapere come la situazione alla gamba sinistra è per quanto riguarda il mio braccio destro per fortuna mi fa male pochissimo e quindi sto abbastanza bene non c'ho problemi punto ok e comunque nonostante tutto il sottoscritto sotto al sole l'isolazione eccetera eccetera io ho fatto il mail mentre voi invece continuate solamente a fare i leoni da tastiera pubblicare link a lamentarvi inutimente ragazzi io vi ho io come si dice vi ho dato delle soluzioni io vi ho invitato a scendere voi non l'avete accettato e perciò vi consiglio solo una cosa di stare zitti e di non fiatare più perché perché se ci troviamo in questa situazione anche perché voi non ci avete messo la faccia e quindi è inutile che vi lamentate perciò basta provarci voi non l'avete fatta e pazienza come dice il nostro super eroe gold greg a tomar por culo pure voi poi chi non non li conviene la mia predica mi può benissimamente togliermi l'amicizia bloccarmi e cancellarsi anche e cancellarvi anche dal dei miei canali quindi per me non c'è problema anzi preferisco più guerrieri serie piuttosto che dei quacquara qua che fanno bla 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 e poi quando vi invitiamo a scendere in piazza non non vi presentate punto e va bene ragazzi ho detto tutto e naturalmente cercherò di pubblicarlo anche su youtube questo video naturalmente anche su rumble e prima di chiudere prima di chiudere prima di chiudere prima di chiudere voglio vedere se c'è qualche se c'è qualche notizia vediamo qualche notizia alla fine il popolo ha il governo che si merita è un se una persona io ho commentato un link riguardando il popolo che anche questa persona ha capito ha capito a volo la situazione quindi mi ha dato ragione quindi ve l'ho detto ragazzi purtroppo il popolo parlo del 90 per cento degli italiani che gli piacciono essere piecati con la tubiera e soprattutto godere perciò ecco qua mamma mia e va bene ragazzi per il momento non ho nulla da aggiungere ho detto quello che dovevo dire e che vi dico ragazzi aspetta a voi aspetta a voi a fare qualcosa di grosso qualcosa di utile come ho fatto io io ci ho messo la faccia e mentre mentre voi invece la faccia non ce l'avete messa proprio avete fatto solo chiacchiere e blu 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 appoggiate solo ai ai pagliacci che vi ho menzionato prima e vi fate fregare pure da loro ricordate che questi pagliacci sono sono pagati dal sistema il cosiddetto dissenso controllato perciò c'è il caro Draghi ha pensato veramente a tutto che più tutto di così non si può ragazzi quindi e quindi naturalmente e invece ringrazio anche quei pochissimi guerrieri come il mio fratellone Ciro Cropano e gli altri pochissimi guerrieri che sono scessi davanti alle procure ringrazio anche il mio amico Peppe Servillo che che pomeriggio lui si è presentato alla procura mi dispiace che non che non ero presente perché la dottoressa mi aveva invitato ad andare a casa e di curarmi gli occhi che si erano confiati e che ora adesso so so perfettamente bene ok ragazzi vi saluto vi auguro un buon proseguimento ancora buon pomeriggio e ci sentiamo alla prossima con le notizie di Draghi Forcello ok un bacio a tutti da Gianfranco buona giornata e vi voglio una marea di bene ciao ragazzi un bacione forte ciao buon pomeriggio